Il Comitato esiste in realtà da molti anni, dai primi anni del 2000 e con alterne vicende ha affrontato il tema dell'incenerimento a Terni. Come sapete la nostra città è purtroppo sottoposta a una storia triste rispetto a questa cosa poiché fino al 2007-2008 sono stati funzionanti contemporaneamente tre inceneritori. Attualmente in funzione uno è un prossimo, se tutto va male, se tutto va bene, per noi rientrerà in funzione, se va bene per noi nel senso che riusciamo a non farlo partire. Diciamo che molto tranquillamente il nostro obiettivo è chiudere gli inceneritori, non è che abbiamo obiettivi intermedi, perché siamo convinti e quello che sta succedendo nella nostra città ma anche nella nostra regione lo dimostra, è che fin quando esistono impianti di questo tipo che sempre si accompagnano alle discariche, quindi gli inceneritori e le discariche sono sempre due elementi che non vanno mai separati, vanno sempre insieme, fin quando esisteranno impianti di questo tipo non sarà possibile pensare ad alternative. Diciamo che all'inizio della sua storia l'incenerimento probabilmente ha avuto un senso, lo dico con calma, nel senso che appunto la conoscenza scientifica e anche lo sviluppo del ragionamento attorno ai rifiuti, quindi negli anni 70 inizia un po' questa cosa qui che poteva sembrare anche virtuosa, diciamo tra virgolette. Il problema è che per fortuna gente ha cominciato a ragionare su questo argomento e ci si è accorti già alla fine degli anni 80 che insomma c'era qualcosa che non andava e che si potevano sostituire con altro. Ora ci troviamo in una fase in cui è praticamente riciclabile, parlando dei rifiuti urbani, esattamente tutto, cioè una porzione molto minima e che comunque non è quella che caratterizza oggi le discariche attuali, che ha un difficile collocamento, di cui si può parlare effettivamente di smaltimento. Quindi da questo punto noi lavoriamo sul piano legale, ma lavoriamo soprattutto nella costruzione di un movimento cittadino, che in questi ultimi anni soprattutto è cresciuto tantissimo e con esso è cresciuto un livello di conoscenza e anche di coscienza rispetto non solo al problema specifico degli inceneritori dal punto di vista della loro inutilità e della loro dannosità, ma è cresciuta anche una consapevolezza attorno all'esistenza della possibilità dell'alternativa, cosa che invece fino a molti anni fa era completamente sconosciuta e che quindi la risposta tipica era vabbè ma insomma questi rifiuti che ci facciamo, ce li mangiamo, questa è la classica risposta che tuttora arriva, non vi pensate che non ci sia, soprattutto da parte delle amministrazioni. Invece al contrario in questi anni è molto cresciuta la consapevolezza e la stessa partecipazione all'iniziativa insomma lo dimostra da questo punto di vista, se non fosse cresciuta una coscienza più ampia non ci sarebbe stato quel livello di partecipazione e soprattutto non saremmo riusciti a produrla per tanti anni consecutivamente. Ecco lì vediamo che sostanzialmente attorno all'incenerimento si è costruito un enorme business, sono cresciute enormi imprese, sono diventate delle holding e queste peraltro ci hanno avuto negli anni, a partire dagli anni 90 anche un sostegno economico forte, i vecchi chip 6, cioè gli incentivi a bruciare rifiuti, poi trasformatisi in certificati verdi e questi hanno foraggiato anche un certo livello, parliamo di 35 miliardi di euro dati solo al settore degli assimilati perché in Italia, unico paese in Europa, ha assimilato i rifiuti alle fonti rinnovabili, questo ai tempi dei chip 6, grazie a questo artificio sostanzialmente ci si è ritrovati con inceneritori a manetta che hanno bruciato di tutto e di più e sostenuti appunto dal denaro pubblico dei chip 6 che era pagato dalla bolletta elettrica come tuttora è, diciamo il 7% della bolletta era destinata a questo. Si è creato un linguaggio che però molto spesso ha sostanzialmente nascosto pratiche che sono molto simili a quelle che si dice di voler sostituire e quindi molto spesso hanno un po' come dire, hanno acquato il panorama, hanno fatto passare per soluzioni positive, soluzioni che non sono assolutamente positive rispetto all'incenerimento, ad esempio la produzione di un combustibile da rifiuti che è altamente il CSS appunto, che però nella sostanza che fa, non sottrae combustibile agli inceneritori, ma se il problema è sottrare combustibile agli inceneritori, ed è possibile, non c'è senso parlare di sostenibilità per una soluzione che nei fatti, come dire, proroga all'infinito l'esistenza di questi impianti con appunto collegato tutta la parte, diciamo, della dannosità di questi impianti, aspetto su cui abbiamo lavorato moltissimo, sia con Isde Umbria e Medici per l'Ambiente, ma anche con altri esponenti del mondo scientifico, peraltro non necessariamente anti-inceneritoristi, ma perché insomma quando si cerca di capire qual è poi l'effetto sulla salute di questi impianti, è necessario insomma un po' aprire il confronto, il dibattito con vari esponenti del mondo scientifico. E sono state anche quelle iniziative molto importanti, perché anche quelle hanno accresciuto un po' il livello della conoscenza e dall'altra hanno evitato forme, diciamo, tra virgolette di linguaggio, come si può dire, un po' banalmente allarmistico, che non serve, perché comunque la realtà dei fatti è già di per sé abbastanza grave, quindi è inutile come dire, aggredire la realtà che già c'è con parole inutili, quanto piuttosto è portare alla luce la realtà, come saprete negli ultimi tempi, a Terni c'è tutta questa vicenda della contaminazione degli alimenti, su cui appunto si sta lavorando e che in qualche modo stanno a testimoniare quello che dicevo, cioè c'è una realtà da far emergere, e non serve scriverla con parole inutili, serve scriverla con le parole necessarie. Grazie a tutti.